Luis, una grande vittoria, un'ottima Lazio. Sì, noi eravamo pronti, sapevamo che l'Unionese era una bella squadra, che sulle ripartenze erano molto forti, quindi abbiamo lavorato durante la settimana. Noi volevamo vincere per essere attaccati alle prime in classifica e abbiamo fatto una bella partita. Tu più giochi più migliori? Come tutti, più ti danno tempo, più ti prendi l'esperienza, più ti danno paura. Hai trovato però quest'anno un allenatore al contrario del passato, che questa fiducia te la sta dando. Sì. È importante, no? Sì, molto. Luisa, sei compito la Juventus, che campionato farà la Lazio? Quali sono gli obiettivi? Per adesso, partita per partita, è ora vincere tutte e poi pensare. Quella corsa finale che hai mancato solo il piano, anche se poi sei stato molto attivista perché hai cercato l'altro. Sì, che ero stanco, quindi poco lucido. Lì mi è venuto per la soluzione, ho visto e io ero tanto. Senti, delle prossime sette partite cinque le avete in casa, quindi vuol dire che insomma davanti al vostro pubblico vi potete giocare un pezzo di stagione molto importante. Sì, che ci aiuta molto il pubblico, quindi è meglio per noi se giochiamo a casa. Ok, bene, grazie.